è una long sul dax aperto proprio sulla forza degli scorsi minuti sostanzialmente guarda grafico giornaliero andiamo a prendere proprio un tempo, vedo quello che forse molti già hanno visto una prova di forza emersa nelle ultime sedute con la violazione di quello che è stato un livello resistenziale posto a 12.700, ieri abbiamo avuto una giornata di forte volatilità sfruttando anche le indicazioni che giungono dalle trimestre, guardando un grafico con tempo prima due ore si vede come vi sia in atto la violazione di quello che era stato un livello resistenziale di breve posto in corrispondenza dei 13.100 punti, beh sostanzialmente guarda il livello di ingresso che ho individuato lo vedi anche qui è una scusa 13.110 punti, qua 13.010 è una target a 13.370 il perché il 13.010 come stop? beh lo ricaviamo scendendo di time frame sostanzialmente mi sono messo sotto quest'area di minimi ho detto se il movimento annulla quello che è stata la tendenza di queste ultime ore beh bisogna stopparsi e quindi ho messo a nonostante vi sia l'importante solia psicologica dei 13.000 punti ecco io ho individuato come stop il 13.010 questa era la strategia grazie a tutti 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 grazie a tutti